Abbiamo davanti la descrizione dell'insana soddisfazione di un uomo che ha lottato tutta la vita per farsi un nome, per costruire un'azienda, per alzare il fatturato, per imporsi sul mercato. Un uomo riuscito, che si è allargato sempre di più e che ha il dono di sedersi a contemplare e a sentirsi soddisfatto. Fermarsi a guardare ciò che si è, ciò che si è raggiunto, è già un fatto positivo rispetto a quelli che hanno quell'affanno dell'avere che a molti avvelena tutta la vita per conquistare sempre di più. Ebbene, quest'uomo si siede, contempla e pone la sua fiducia in quello che ha. Anima mia, godi, hai fatto tutto quello che potevi per star bene, oggi hai il premio delle tue fatiche, è stata dura, abbiamo dovuto far fuori tante altre persone che ci facevano concorrenza, non siamo sempre stati del tutto leali, ma il mondo è così. Se non mangi tu gli altri, sono loro che mangiano te. Ecco, i suoi sogni si sono realizzati, ma stanno diventando un incubo. Infatti, sente sullo sfondo un mormorio, stolto. Stanotte dovrai rendere conto di tutto e resterai nudo come quando sei nato. Le uniche cose che ti porterai con te sono il tuo cuore e la tua capacità di amare. Anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. E' più che una constatazione, è l'insegnamento di Gesù che ci mette in guardia dall'attaccamento al denaro, ai soldi, agli euro, alle operazioni finanziarie, ai giochi d'azzardo, all'accumulo. E' sempre alle porte la tentazione di affidare il nostro futuro a queste cose. Il drogato lo affida alle sostanze, la star di successo, il giocatore agli ingaggi, l'uomo televisivo all'audience e purtroppo spesso diventiamo mezze persone, fantocci in balia delle situazioni. Buttiamo l'anima credendo di salvarci la vita. E' quello che capita a quasi tutti coloro che vincono somme favolose alle lotterie. Non hanno finito di soffrire, ma hanno finito di vivere. Non sei il centro dell'universo. Non decidi tu nessun momento in più o in meno della tua esistenza. Non sei un fiore nel deserto. La tua umanità fa parte della mia e di tanti altri che ti vivono accanto. Non ti accorgi che hai appeso le tue speranze a delle grucce che non sono attaccate da nessuna parte. Questa gioia che provi, questa felicità che Dio ti regala da sperimentare è solo un segno, un invito. Deve diventare dono e amore per gli altri. La devi vivere al cospetto di Dio, dice il Vangelo. Allora diventerà vera e eterna. Hai un fratello, Gesù, e un padre, Dio, che ti tengono continuamente in piedi e che sono il fondamento della tua gioia e il tuo cuore sarà pieno solo se li sai incontrare. Hai una madre, Maria, che ti segue a vista per indicarti la strada di Gesù, che non smetterà mai di starti col fiato sul collo. Te l'ha data Gesù prima di morire e vive questo suo compito senza condizioni, ogni giorno, ogni ora. La tua felicità deve fare un salto di qualità nel cercarne la sorgette. Allora ti si apriranno prospettive impensabili. E d'accordo, quando l'avrai trovata, tieniti sempre quella faccia sorridente. Il mondo non ha bisogno di un muso lungo in più, nemmeno di uno sguardo eibete, ma di due occhi che sprigionano speranza per tutti. È a Dio che occorre affidarsi. È questa speranza che è Lui che deve sempre stare davanti a tutti i nostri pensieri. Una parola stiamo dimenticando, provvidenza. Eppure i santi hanno costruito le loro opere più grandi fidandosi solo, proprio, di Dio.